Nasce a Teramo la prima esperienza di riqualificazione professionale dei percettori del reddito di cittadinanza in ambito culturale mediante i progetti PUC. La Biblioteca Regionale Delfico si avvarrà infatti dell'opera di 10 disoccupati percettori del reddito di cittadinanza per incrementare e migliorare il servizio in favore della città. A Teramo, ha spiegato l'assessore Daniele Damario, si materializza la sfida di coniugare welfare e cultura come opportunità di crescita e formazione per i disoccupati, ma soprattutto, ha osservato, si materializza quella sfida che l'assessorato alla cultura ha voluto raccogliere quando ha chiesto ai comuni che ospitano strutture culturali regionali di attivare i cosiddetti progetti PUC che prevedono l'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza nella realizzazione di attività in ambito culturale e sociale.